Noi naturalmente siamo onoratissimi dalla tua presenza, io volevo farti una domanda Sì, sei un po' esagerato nella presentazione In che senso? Beh insomma ero primo, l'ultimo, non ho capito bene che ero? Ero primo, l'ultimo Sei il numero uno e sei un pezzo da novanta Ah, pezzo da novanta, non ho capito, però era primo ma è arrivato novantesimo, non capivo No, no, anzi mi hai detto tu alle prove che il pezzo da novanta te era piaciuto Pezzo da novanta? Sì Mi era piaciuto Se te era piaciuto l'espressione E beh, non avevo capito che lo volevi dire qui stasera, ho detto vabbè fai io di qui alle prove, poi non lo dirà Nino, senti, io ti volevo fare una domanda, da tanto tempo voglio farti questa domanda Sì, sono qui per questo, sono venuto e dico vedrai che Jorm deve fare delle domande Sì, l'ho detto Che faccio? Ce ne faccio una sola Sì Perché hai fatto l'attore, Nino? Ho fatto male, secondo te, a fallo? Non è che tu hai fatto male, ma siccome hai una laurea è portativissimo Io faccio dei testimoni, hai sentito l'applauso, l'ingresso? Certo, certo Molti di questi signori, quasi tutti, ho ricevuto qui delle lettere d'amore, di affetto Per il mio lavoro, che sta domanda ti sei messo male? No, ma no, ma io so che ti vogliono bene Perché per questo ti ho fatto bene a fallo a tutti Ma io dico potevi essere un grande avvocato cui la gente voleva bene, per esempio Era meglio che facevo l'avvocato, dici te? Ma, non so, per esempio, dico no Ma te desse un po' fastidio che insomma so bravo io Te dà un po' fastidio? Sì Ah, te dà fastidio? Sì, te mi dà fastidio Sì, te dà fastidio